Soddisfazione per questa opera che viene consegnata alla collettività, è un'opera molto importante per tutta la valle, mi sembra che anche i tempi siano stati rispettati, pertanto voglio dire, grande soddisfazione anche per il lavoro che è stato fatto, devo dire, anche da chi ci ha preceduto. Questo onestamente va detto, la data di inaugurazione è stata prevista per il primo di agosto alle ore 11, speriamo che ci sia la partecipazione di molti cittadini proprio perché questa è un'opera che useranno tutti i cittadini, tutti i turisti, tutti i fruttori della valle. Quindi tempi rispettati, è passato molto tempo obiettivamente, ma rispetto al progetto i tempi, grazie anche come diceva lei all'amministrazione precedente, sono stati sostanzialmente rispettati. Sì, grazie anche ai nostri tecnici e ai nostri ingegneri che hanno ben lavorato e oggi possiamo dire che i tempi sono stati rispettati e questo è molto importante.